Il giro dei cinque laghi e anche di più. Questa è la destinazione e meta e programma e quello che volete voi della mia giornata di oggi. Si tratta di un'escursione grossomodo di cinque ore che comprende un anello dove si toccano moltissimi laghi alpini delle Europie Bergamasche e la maggior parte sono artificiali mentre alcuni pochissimi e quelli più piccoli sono ancora di origine naturale quindi senza una barriera di fronte che li contenga. Mi trovo in località a Valgoglio poco oltre il paese di Valgoglio esattamente al ristoro dei cinque laghi che è là in fondo. Una piccola nota di questo posto qua è che non c'è parcheggio quindi dovete premonirvi giù al paese di Valgoglio del gratta e sosta costo di cinque euro e l'unica pecca che ho notato è che questi gratta e parcheggia si devono acquistare in biblioteca o in comune quindi fate la caccia al tesoro. Ma secondo voi uno alle sei e mezza come me si mette a cercare il gratta e vinci o gratta e parcheggia alle sei e mezza del mattino? Secondo voi questi locali sono aperti. A presto! Dopo circa 30 minuti di cammino nel bosco finalmente si esce in ambiente molto più aperto d'ora in poi sarà tutto esposto alla luce del sole. Troppo di indicazioni via la mosca! Grazie a tutti! 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 Dopo una camminata di circa un'ora e venti dalla macchina, quasi tutta una bella salita, rampegosa, finalmente si comincia a vedere qualcosa. Ora sono arrivato alla casa dei gestori dell'Enel che custodiscono queste dighe che producono energia elettrica. Qui sotto potete vedere le costruzioni con una condotta forzata là in alto mentre qua sulla destra la prima diga che è del lago Sucotto. Lago Sucotto raggiunto. Ora punto al lago Cernello, il secondo di questo giro di laghi. Musica Grazie a tutti E' arrivato al rifugio Baita Cernello che è quello lì dietro di me e questo qui accanto è l'omonimo lago Grazie a tutti Grazie a tutti Ci sono le marmotte là in fondo Bene questo è il punto forse più suggestivo di tutto il percorso In quanto c'è questa particolarissima scaletta scavata e ricreata nella roccia E' un tratto molto breve però comunque c'è da prestare molta attenzione durante la salita Andiamo E' un tratto molto breve E' un tratto molto breve Sono giunto al terzo laghetto di questa camminata Questo qui alle mie spalle è il lago Campelli Basso Mentre quello che c'è dietro quella diga è il Campelli Alto E' un tratto molto breve Grazie a tutti Grazie a tutti Questa che vedete è la diga del lago di Aviasco Il quinto è il quinto che si trovava lungo per questo percorso E' un tratto molto breve E' un tratto molto breve E' un tratto molto breve Sesto lago di percorso Il lago Val Rossa Sovrastato dal Monte Cabianca E' un tratto molto breve Determinale Quello che ci sp tweet Il quinto è l'evolvente Ma è questa la fermata stessa di Aviasco va in alto è qui che si conclude il Giro dei Laghi alla cabanna Giulia Maria e sotto di lei il lago numero 9 il lago presentino il Giro dei Laghi 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 il Giro dei Laghi